Continua la visita istituzionale ai sindaci e alle comunità locali del prefetto dottor Domenico Cuttaia. Anche Alatiano ha ribadito che è necessario conoscere le varie realtà e problematiche territoriali, dialogare e ascoltare i rappresentanti istituzionali delle comunità, per un impegno condiviso al servizio del cittadino, ispirandosi in ogni circostanza al principio di legalità. Il prefetto è giusto che sia sempre vicino ai cittadini e alle comunità. In secondo luogo quello di potermi rendere conto di persona, anche delle caratteristiche fisiche dei luoghi e delle complessità, delle problematiche che ovviamente riguardano le comunità locali. E infine quello di avere già un primo contatto personale con i sindaci. Ritengo che il rapporto istituzionale per essere fruttuoso e quindi indirizzarsi al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini debba essere accompagnato, se non preceduto, anche da un rapporto di natura personale, un rapporto di stima reciproco. Lei in questi giorni ha già ascoltato diversi rappresentanti istituzionali. Da quello che è emerso, quali sono le priorità? Le priorità sono quelle conosciute da tutti, le priorità che riguardano l'occupazione e quindi favorire in ogni modo l'evoluzione economica e produttiva del territorio. Le problematiche di carattere sociale che sono di spessore, come in quasi tutte le province italiane e che debbono trovare una soluzione adeguata, perché attraverso la loro soluzione noi possiamo anche affermare i principi della democrazia, dell'impegno e della partecipazione. E poi c'è il problema prioritario anche esso della sicurezza. Quindi lo sforzo che dobbiamo compiere è quello di unire gli sforzi e sfruttare al meglio, utilizzare al meglio queste nuove responsabilità che sono state attribuite ai sindaci per delineare una strategia operativa che consenta di raggiungere risultati di maggior efficienza ed efficacia in ordine al controllo del territorio. Ad accogliere il prefetto, il sindaco e la giunta comunale di Latiano. È stata una visita che ha rappresentato chiaramente un'occasione importante proprio per discutere un po' di tutti quei temi che oggi riguardano il nostro territorio. Avremo modo sicuramente di condividere con tutti gli altri colleghi sindaci, quindi con tutti gli altri comuni della provincia, quelle che possono essere le problematiche legate alla sicurezza. Abbiamo parlato anche di tutto ciò che riguarda le nuove trasformazioni dei territori anche in funzione della normativa governativa in continua evoluzione, di quelli che saranno gli effetti di questo sempre maggior accentuato federalismo, di quelli che sono i problemi legati anche alle casse, quindi ai bilanci comunali, alla carenza delle risorse umane.